Capitolo 3. Ci lamentiamo delle imprese e delle zucche ornamentali. Devi fare cosa? Io e Annabeth eravamo seduti sulla scala antincendio fuori dalla mia camera da letto, con i piedi che penzolavano sulla centoquattresima strada. Nelle ultime settimane, a mano a mano che l'estate volgeva al termine, la scala antincendio era diventata il nostro rifugio felice. E, nonostante tutto quello che era successo quel giorno, felice lo ero davvero. Non riesco a essere triste quando sono con Annabeth. La aggiornai sul mio primo giorno all'alternative high school. Le lezioni, le preoccupazioni, la gita non pianificata in fondo al mare. Annabeth faceva dondolare le gambe, un'abitudine che ha quando è nervosa, come se volesse scacciare qualche zanzara o dei fastidiosi spiriti del vento. È assurdo, fu il suo commento. Forse posso convincere mia madre a scriverti una lettera di presentazione. La madre di Annabeth è Athena, la dea della saggezza, quindi una presentazione da parte sua probabilmente avrebbe avuto parecchio peso. Purtroppo, le poche volte che ci eravamo incontrati, Athena mi aveva analizzato con i suoi penetranti occhi grigi, come se fossi un impostore. A tua mamma non piaccio, le ricordai. E poi Poseidone è stato chiarissimo. Devo affrontare imprese nuove per tre divinità, e le richieste devono venire da loro. Esattamente quello che ho detto anch'io. Annabeth fissò lo sguardo sull'orizzonte, come se da Yonkers potesse arrivare una soluzione. Da Yonkers arrivano soluzioni. Capiremo come fare, mi rassicurò. Abbiamo superato di peggio. Apprezzai molto la sua fiducia. E poi aveva ragione. Avevamo superato così tanti ostacoli insieme, in passato, che era difficile immaginare qualcosa che non fossimo in grado di affrontare. A volte qualcuno mi chiedeva se fossi mai uscito con altre ragazze oltre ad Annabeth, o se avessi mai pensato di frequentare qualcun'altra. La verità? La risposta è sempre stata no. Quando ci si è aiutati a vicenda nel Tartaro, il luogo più profondo e terrificante dell'universo, e se ne è usciti vivi e più forti di quanto si fosse all'inizio, beh, non è un rapporto che si possa o si voglia sostituire. Sì, certo, non avevo neanche 18 anni. Eppure, nessuno mi conosceva meglio o mi sopportava di più o mi aiutava a non sbarellare quanto Annabeth, e io sapevo che lei poteva dire lo stesso di me, perché se come ragazzo fossi stato in qualche modo inadeguato, me lo avrebbe detto all'istante. Magari saranno imprese da poco, buttai lì speranzoso, come raccogliere la spazzatura lungo l'autostrada il sabato o roba del genere. Questa però è una faccenda da io, non da noi. Non ti ci voglio trascinare. Ehi, Annabeth posò la mano sulla mia. Non mi stai trascinando da nessuna parte. Ti aiuterò a superare il liceo e a entrare all'università con me, a qualunque costo. Quindi mi scriverai i temi? Ah ah ah, bel tentativo. Restammo seduti in silenzio per un minuto, le nostre spalle che si toccavano. Eravamo entrambi affetti da iperattività e deficit dell'attenzione, eppure sarei potuto rimanere così per ore, completamente appagato, godendomi lo scintillio del sole pomeridiano sui suoi capelli, o il modo in cui il suo battito si allineava al mio, quando ci tenevamo per mano. Indossava una maglietta azzurra con stampigliato sul davanti Sodnik a lettere dorate. Sembrava una parolaccia, invece era solo il nome del suo nuovo liceo, School of Design New York City. Li avevo chiesto subito del suo giorno di scuola. Aveva attaccato a raccontarmi dell'insegnante di architettura e del suo primo impegnativo compito a casa. Poi si era bruscamente interrotta e aveva tagliato corto dicendo, è andato bene, è il tuo? Credo sapesse che nel mio caso ci sarebbero state più cose da raccontare, più problemi da risolvere. Non mi sembrava giusto, non perché non avesse ragione, ma perché non volevo metterla al secondo posto. Il fatto è che chi è molto bravo a risolvere i problemi degli altri, a volte non si lascia aiutare con i propri di problemi. Stavo raccogliendo il coraggio per chiederglielo di nuovo, per assicurarmi che nessun dio o mostro le avesse fatto visita durante la giornata e le avesse assegnato qualche missione, quando da dentro casa chiamò mia mamma. Ehi voi due, mi aiutereste con la cena? Certo Sally. Annabeth fece roteare le gambe e scavalcò la finestra. Se c'era qualcuno che amava aiutare più di me, era mia madre. Quando entrammo in cucina, Paul stava tagliando l'aglio per il soffretto. Indossava un grembiule che aveva ricevuto da uno dei suoi studenti come regalo di fine anno. Sul davanti riportava la seguente citazione. Una ricetta è una storia che si conclude con un buon pasto. Pat Conroy. Non sapevo chi fosse quel tizio. Probabilmente a un letterato dal momento che Paul insegnava letteratura, però la frase mi piaceva perché apprezzavo la buona tavola. Annabeth afferrò un coltello. Io penso ai broccoli. Paul le sorrese. Durante l'estate i capelli sale e pepe gli si erano allungati e arricciati un po' e aveva iniziato a radersi solo ogni due giorni, quindi aveva un'aria piacevolmente trasandata, come diceva mia madre. Cedo il tagliare alla figlia di Atena, disse con un piccolo inchino. La ringrazio, milord, replicò Annabeth altrettanto formale. Mia madre scoppiò a ridere. Come siete adorabili voi due. Paul le fece l'occhiolino, poi mise a scaldare il walk. Fin dalla primavera precedente, quando Paul aveva seguito Annabeth in non so quale impossibile progetto di letteratura, tra tutti gli argomenti possibili i due avevano legato su Shakespeare, quindi metà delle volte in cui parlavano sembrava stessero recitando una scena del Macbeth. Percy, apparecchieresti la tavola? Mi pregò mia madre. In realtà non aveva bisogno di chiederlo, dato che di solito era compito mio. Cinque piatti color pastello spaiati, a me quello azzurro, come sempre. Toglioli di carta, forchette, bicchieri e brocca di acqua del rubinetto. Niente di ricercato. Mi piaceva seguire un rituale semplice come quello, qualcosa che non implicasse combattimenti con mostri, profezie divine o esperienze di premorte nelle profondità degli inferi. Apparecchiare un tavolo per la cena potrebbe sembrare noioso, ma quando nella vita non hai mai un momento tranquillo, la parola noioso comincia a diventare attraente. Mia madre controllò il cuociriso e poi prese dal frigorifero una ciotola di tofu marinato. Mentre lavorava canticchiava forse Kamesjuarde in irvana. Dal viso luminoso e gli occhi scintillanti capivo che era serena. Si muoveva come fluttuando o come se stesse per improvvisare qualche passo di danza. Bastò a quella vista farmi sorridere. Per troppo tempo era stata una mamma stressata e sottooccupata, con il cuore spezzato dopo la breve relazione con il dio del mare e costantemente preoccupata per me, il figlio semidivino che era stato preso di mira dai mostri da quando aveva l'età per gattonare. Ora lei e Paul avevano una bella vita insieme e se mi sentivo un po' triste per avere un piede fuori dalla porta proprio quando le cose stavano migliorando, beh, non era colpa sua né di Paul. Loro facevano tutto il possibile per includermi e comunque io al college ci volevo andare. Se avessi dovuto scegliere tra stare con Annabeth e... beh, qualsiasi altra cosa, non avrei avuto dubbi. Paul lasciò cadere nel luoco uno spicchio d'aglio che sfregolò e fumò come un drago che starnutisce. Ebbene sì, ho visto draghi starnutire. Direi che siamo pronti, milady. Ecco qui, Annabeth rovesciò il mix da far saltare nell'olio e proprio in quel momento il campanello suonò. Vado io, corsi a far entrare il quinto ospite. Non appena aprì la porta, Grover Underwood mi mise in mano un cesto di frutta. Ho portato le fragole! E subito aggiunse, facendo fremere le narici, tofu saltato in padella? Ciao anche a te! Lo salutai. Adoro il tofu saltato in padella! Grover mi girò intorno e punto dritto in cucina, avendo sempre avuto un certo fiuto per il buon cibo. Il mio migliore amico si era concesso di inselvatichirsi un po', il che la dice lunga, visto che è un satiro. Le corna e i capelli ricci stavano facendo a gara a chi cresceva di più. Al momento vincevano le corna, ma non di molto. Il posteriore caprino era diventato così irsuto che Grover aveva smesso di indossare pantaloni umani, anche se mi assicurò che i mortali li vedevano, grazie alla magia oscurante della foschia. Se qualcuno lo guardava in modo strano, si limitava a dire «abbigliamento sportivo». Portava la maglietta arancione regolamentare del campo mezzosangue e usava ancora scarpe da tennis appositamente adattate ai piedi caprini, perché gli zoccoli sono rumorosi e la foschia fa fatica a mascherarli. Senz'altro la spiegazione «abbigliamento sportivo e scarpe da tip-tap» non avrebbe retto. Mia madre lo abbracciò e accolse con gridolini di grande apprezzamento il cesto di fragole che avevo appoggiato sul bancone della cucina. «Hanno un profumo meraviglioso!» gioì. «Sono il dessert perfetto!» «Ultimo raccolto dell'estate», disse Grover con aria malinconica. Mi fece un sorriso triste, come se stesse rimuginando sul fatto che quella era stata anche la mia ultima estate al campo. Una volta presa la maturità, se viviamo così a lungo da diplomarci, la maggior parte di noi semidei entra a far parte del mondo normale. Il concetto è che a quel punto siamo abbastanza forti da badare a noi stessi e i mostri tendono a lasciarci in pace perché non siamo più bersagli facili. Questo almeno teoricamente. «Ora dobbiamo prepararci per la stagione delle zucche!» continuò Grover con un sospiro. «Cioè, non fraintendetemi, adoro le zucche ornamentali, ma non sono poi così gustose!» Mia madre gli diede una pacchetta sulla spalla. «Faremo in modo che queste fragole non vadano sprecate!» Il cuociriso trillò proprio mentre Paul spegneva il piano cottura e dava al wok fumante un'ultima mescolata. «Chi ha fame?» «Tutto ha un sapore migliore quando mangi con le persone che ami. Ricordo ogni pasto che io e i miei amici abbiamo condiviso nella cambusa a bordo del Largo Seconda, anche se la maggior parte delle volte mandavamo giù cibo spazzatura tra una battaglia e l'altra per la vita o la morte. In quei giorni, a casa, cercavo di assaporare ogni cena con mia madre e Paul. Ho trascorso la maggior parte della mia infanzia spostandomi da una scuola all'altra, perciò negli anni della mia crescita non ho mai potuto gustare il rito delle cene di famiglia. Le poche volte che ero a casa, quando mia mamma era sposata con Gabe Ugliano, soprannominato il Puzzone, cenare insieme non era mai stato un piacere. L'unica cosa peggiore della puzza di Gabe era il modo in cui masticava a bocca aperta. Mia madre ha fatto del suo meglio. Tutto quello che ha deciso è stato per proteggermi, incluso vivere con Gabe, il cui fetore depistava i mostri. Eppure, quel passato difficile mi faceva apprezzare ancora di più momenti come questo. Parlammo del libro della mamma. Dopo anni di sogni e lotte, in primavera sarebbe stato pubblicato il suo primo romanzo. Non ci aveva guadagnato granché, ma, ragazzi, un editore l'aveva effettivamente pagata. In quel momento oscillava tra euforia e ansia travolgente per ciò che sarebbe accaduto quando il libro fosse uscito. Parlammo anche del lavoro di Grover al Consiglio dei Satiri Anziani, che inviava satiri in tutto il mondo per controllare i cataclismi naturali. Negli ultimi tempi il Consiglio non soffriva certo di penuria di problemi da affrontare. Infine, aggiornai Grover sul mio primo giorno di scuola e sulle tre lettere di presentazione che avrei dovuto ricevere dagli dèi. Sul suo viso balenò il panico, ma lo represse in fretta. Si sedette più dritto e si tolse un po' di riso dal pizzetto. «Che bello! Di nuovo un'impresa insieme!» Cercai di non sembrare troppo sollevato. «Grover, non devi...» «Stai scherzando?» sorrise ad Annabeth. «L'occasione di intraprendere un'impresa solo noi tre, come ai vecchi tempi! I tre moschettieri!» «Le super chicche!» Shrek, Fiona e Ciuchino, proposì io. «Ehi, cosa vorresti dire?» «Io ci sto!» rise Annabeth. Paul alzò il bicchiere. «I mostri avranno delle belle sorprese, però state attenti voi tre!» «Andrà tutto bene», disse Grover, anche se il suo occhio sinistro fremette. «E poi ci vuole sempre un po' di tempo perché la notizia comincia a circolare tra gli dèi. Probabilmente passeranno settimane in attesa a chi arrivi la prima richiesta». Capitolo 4 Porto un imbo a farsi un frappè. La prima richiesta è la prima richiesta. La prima richiesta